Quante volte possiamo presentarci con lo stesso vestito? Tutte quelle che vogliamo. Con questa frase, Orsola De Castro mi ha veramente conquistata. Orsola De Castro è l'autrice di questo libro, I vestiti che ami vivono a lungo. È un libro che parla di moda, dell'industria della moda, da una che ci ha vissuto dentro, che ci vive tuttora dentro, una delle co-fondatrici di Fashion Revolution Week, uno dei movimenti più, forse il più noto al mondo per portare attenzione su tutto il problema della moda. Sì, perché la moda è un problema. È un problema in tutto il ciclo di vita di ciascun vestito che noi indossiamo. E è di questo che parla Orsola De Castro nel suo libro. La prima parte del libro è prevalentemente filosofica e ci spiega un po' come riparare, rammendare, anche con delle piccole pillole di pratiche, come riparare, rammendare, ristrutturare, ripensare ai nostri vestiti in modo tale da farli durare il più a lungo possibile. Nella parte successiva del libro va a spiegare fondamentalmente perché dobbiamo farli durare il più a lungo possibile. Considerate che si calcola che ogni anno vengono prodotti 150 miliardi di capi di abbigliamento nel mondo. Noi siamo 8 miliardi, di cui non tutti possiamo permetterci di comprarci tutti questi capi di abbigliamento. E fondamentalmente si calcola anche che il 75% dei capi prodotti ogni anno vengano buttati. Volete un altro dato? L'1% soltanto di tutti i vestiti e prodotti viene effettivamente riciclato. Tutto il resto fa delle fini veramente brutte che Orsola De Castro spiega in questo libro molto, molto efficacemente. Più conosciamo dei nostri vestiti, tutto il percorso, da dove vengono e che fine faranno, più ci leghiamo ad essi. Perché adesso siamo abituati a comprare, metterli una volta, se va bene, buttarli. E poi magari siamo contenti perché li abbiamo donati, ma donare è solo un modo di scaricare la propria responsabilità. Noi non dobbiamo più comprare e usaggettare i vestiti, ma dobbiamo comprarli con criterio, comprarli molto di meno e farli durare il più a lungo possibile. Ho letto altri libri sul mondo della moda, magari pieni di dettagli, deprimenti, frustranti. Questa invece ha una visione assolutamente positiva, pur nel dramma, soprattutto umano, che sta dietro al mondo della moda, ed lo trovo particolarmente efficace. E quindi vi consiglio vivamente la lettura di questo libro.